Stefano De Martino e Gilda Ambrosio innamorati a Milano Stefano De Martino e Gilda Ambrosio innamorati a Milano A quanto pare quello che sembrava essere un amore estivo sta continuando a viaggiare a vele spedite anche dopo Ibiza. Che sia la volta buona che il ballerino possa ritrovare la felicità Non solo in spiaggia quindi ma anche una volta tornati in città dalle vacanze, il rapporto tra Stefano e Gilda sembra proseguire a gonfie vele va detto, riscalda il cuore vedere laffiatamento di questa coppia, almeno per il momento. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sono conosciuti tramite amici comuni e da allora, a quanto pare, non si sono più lasciati, letteralmente, vivendo la loro storia sia tra baci e tuffi amiconos sia grazie a brevi ma intense fughe romantiche in Italia. E' proprio in questi giorni la rivista settimanale che li ha pizzicati alla Fondazione Prada mentre si recavano a vedere una mostra. Nello specifico quella curata dall'artista Francesco Vezzoli sulla televisione e la Rai negli anni 70. Non bisogna dimenticare che Gilda è una ragazza decisamente appassionata d'arte e da quello che è possibile sapere ha coinvolto De Martino in un lunga ma divertente spiegazione delle mostra alla quale Stefano non si è sottratto apparendo alquanto coccoloso nei vari passaggi tra una sala e l'altra. E da quel che si sussurra, decisamente in modo insistente, proprio per rimanerle accanto un po' di più il ballerino abbia deciso di fermarsi un po' di più a Milano, ritardando un eventuale ritorno a Roma, dove il lavoro lo aspetta. E da quel che si è sottotitolo a Roma, dove il lavoro lo aspetta.